E' molto faticoso, molto impegnativo, ci vogliono molte competenze, quindi mi auguro che se stiamo a rinnovo del management sia adeguatamente qualificato. E' in scadenza il mandato di Enrico Paolini, presidente della Saga, la società che gestisce i servizi a terra dell'aeroporto d'Abruzzo. Ieri il CDA ha approvato il bilancio, il via libera definitivo lo darà all'Assemblea del 29 giugno. Subito dopo arriverà la nomina regionale del nuovo presidente, espressione della nuova maggioranza politica. Nel triennio che sta per concludersi abbiamo chiesto a Paolini di tracciare un breve bilancio. In questi tre anni, nonostante alcuni mesi di pandemia, è stato rinnovato totalmente. Come vedete il landslide è totalmente nuovo, l'area commerciale ha raddoppiato, triplicato il fatturato. Ci sono cinque gates invece di uno, ci sono bar, duty free shop interni, tutti i servizi che per decenni avevamo sognato, dal caricatelefonini ai bagni, servizi igienico-sanitari, uffici. L'aeroporto è completamente nuovo. Nel 2019 abbiamo fatto il record storico dei passeggeri, 703 mila. Poi l'anno di pandemia ci ha frenato, ma come vedete già oggi si riparte con forza col primo volo per Tirana e l'esordio di Wits Air in questo aeroporto. Nuove compagnie, nuovi voli. In totale tra giugno e luglio le destinazioni diventeranno 21, 15 di Ryanair, 4 di Volotea e uno ciascuno per Alitalia e come sentito l'ultima arrivata Wits, compagnia low cost ungherese. Paolini infine si sofferma su un problema riscontrato da alcuni utenti in tema di cancellazione dei voli. A giugno ad esempio è stato cancellato il volo Ryanair per Treviso. Per la serie una maggior trasparenza non guasterebbe. Normalmente Ryanair fa cancellazioni quando non c'è riempimento o quando c'è qualche problema tecnico. In questo caso specifico non è cancellata la destinazione, cioè Treviso rimane, è cancellato quel volo, un volo, due voli perché probabilmente o hanno problemi di disponibilità delle macchine o hanno un numero di prenotazioni molto basso. Io francamente non so quale delle due motivazioni sia quella vera perché a me risultava e risulta che le nuove rotte che abbiamo lanciato stanno andando molto forti. L'altro giorno abbiamo avuto Catania con 135 passeggeri, oggi ne abbiamo 109 su Tirana, cioè aeroplani pieni, oltre il breaking point e con un riempimento ottimo, quindi sinceramente non so rispondere. Però ho visto che anche con l'Alitalia qualche volta succede.